amici di misto polini lo so che siete state fremendo per conoscere questa aspirante al titolo di bianco vestita ve la presento subito la numero 24 nome bianchi roberta o bianchi guardate ma dico guardate come pura come cassa come candida questa ragazza come mai scelto il bianco per presentarti qui ai casting primo vestito che mi ha capito solo una domanda così un po troppo che in realtà ti sta molto bene senti allora polbonventi per seriamente ti porta qui a misto polini ho provato l'altro anno a partecipare mi è andata male speriamo che questo anno porti meglio nel 2010 magari speriamo di porti fortuna beh insomma una cosa positiva se ci hai provato e sei ritornata vuol dire che tutto sommato è stata una gran bella esperienza divertita tanto allora cosa ecco magari visto che tu hai già presentato hai già presentato ti sei già presentato a misto polini puoi dare un consiglio magari un invito a tutte coloro che ci stanno guardando a iscriversi e perché dovrebbero iscriversi perché ci si diverte perché si incontra persone nuove amiche e perché comunque qua sono tutti tanto simpatici grazie ma com'è carina come nini grazie va bene senti quella è la telecamera io ti ovviamente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te per te adesso la grande opportunità di dire e salutare tutti coloro che magari ti conoscono che ti sostengono allora saluto mio amoroso la mia famiglia e un ciao a tutti in bocca al lupo in bocca al lupo grazie il figlio e il cretto il figlio e il figlio e il figlio e l'amico La mia vita è la mia vita.